La stazione fuori dal castello della Zisa, piazza Guglielmo e Buono, Palermo, stasera fuori d'artificio, in occasione della chiusura dei festeggiamenti di Maria Santissima della Mercedes al capo, prendo un video sulla postazione. Io sto attento volendo i finlandi. a chi c'è lì se vi bagnate? Stamante è arrivati a Catania ma sono le due, l'un e mezza Ma è che se vuole dire che stanno? Stazione fuorica Siamo pronti a uscire e tra poco stanno avendo le guardie, siccome la vita è chiusa, non c'è problema Non c'è nessuno, non c'è nessuno Poi c'è tutto materiale di alta qualità, tutta corda in gioco, tutto materiale a marchio c'è, perché si fanno la combustione in aria. Ancora camminiamo. Tutto materiale di buona marca. Tutti i materiali sono tutti a marchio c'è, perché questa è la qualità buona. Il rappresentante della corda in gioco è Nicola Arcati. C'è un altro amico, ma mi conosce Michela Arcati, Nicola Arcati. C'è anche il bacalluzzo che c'è per questo momento. Andiamo qua, già siamo arrivati dove c'è, facciamo una bella foto presata qua, dove si cammina. Sono stato autorizzato, perché senza autorizzazione non entro in un risupposto. Mi autorizzano. Poi sono anche assicurato io, perciò. Ho assicurato solo la vita e ho tre assicurazioni, non una. Ho assicurato solo la vita, non una. ma dove riuscire quando mandiamo il video allo stop di pedro pagando un salutone a lucio a tutto lo staff so chi è andava Grazie a tutti. Buongiorno. Grazie. Grazie. Stasera facciamo una diretta. Grazie. 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 Grazie.